Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Filtri per Monitor Viquiti di QCM30 Pellicola Filtri per Monitor. Antiriflettente, rivestimento resistente, antimacchia, applicazione molto semplice, rimovibile completamente, senza residui la pellicola di protezione e display. La pellicola di protezione display di QCM30 offre inoltre ottima protezione meccanica contro i grafi, grazie al rivestimento resistente. L'ulteriore rivestimento antiaderente rende la pellicola antimacchia, così che anche macchie di inchiostro e di pennarello si possono eliminare a secco. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.